Un programma presentato da Fano Computer, da più di vent'anni al vostro servizio. Via Fraghetto 8, Fano. Metal 4 SRL, offriamo soluzioni conto terzi per la lavorazione della lamiera. Ci trovi in località Schieppe di Orciano, a terre roveresche. Sport Park, la tua scelta per feste di compleanno, feste aziendali e team building. 40.000 metri quadrati di divertimento con bowling, biliardo, ping pong, sala giochi, playground, bar e ristorante. Sport Park è a Fano, in Viale Dante Alighieri 150. Agenzia Generale Unipolsai, Anivalli Associati. Sede di Fano, in Via delle Querce 11, zona ex Zuccherificio. Sede di Pesaro, in Via Mameli 72, centro direzionale Benelli. Francesco Gomme e Servizi, sostituzione e riparazione degli pneumatici. Le migliori tecnologie e soluzioni per ogni tipo di veicolo. Via Agnelli, Lucrezia di Cartoceto. Walter Pucci, carpenteria certificata, lavorazione laniere e creazioni in ferro battuto. Via Toniola 8, Bellocchi di Fano. Buonasera e ben ritrovati a Sportissimo. Il settimanale di Fano TV dedicato allo sport del territorio. Nuvoloni, sempre più neri. Si stanno addensando all'orizzonte dell'Alma Juventus Fano, nonché sul campo Splendai Sereno. Tutt'altro, dopo la seconda sconfitta consecutiva sotto la gestione di Cornacchini, quella rimediata sabato contro la Samre del Tese, la situazione di classifica si è fatta sempre più precaria. E' però il quadro societario a destare sincero allarme con il presidente russo, sempre più determinato a smobilitare, nonostante a quel che si apprende. Il sindaco Seri in questi ultimi giorni gli abbia balenato la possibilità di qualche alternativa. Ma sembra che sia sul prezzo da accreditare a questa operazione che il discorso al momento si sia interrotto. Attività che, stando a quelle che sono state le dichiarazioni rese dal direttore generale Fedeli nei giorni scorsi, dovrebbe proseguire ancora per la gara di Termoli di domenica prossima e per quella successiva in casa con il notaresco, da verificare poi se l'Alma si presenterà sul campo di Piedimonte-Matese, dell'Alma di oggi, dell'Alma di qualche tempo fa e anche dei suoi trascorsi comunque molto significativi nel mondo del calcio, nei più diversi ruoli. Parleremo questa sera con Roberto Canestrari, appunto ex giocatore e dirigente dell'Alma Juventus Fano. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Canestrari che ha avuto modo di vedere, e parliamo per un momento del campo, l'Alma in particolare nella partita di Riccione, non molto fortunata a dire il vero perché gli episodi l'hanno un po' indirizzata. Canestrari che conosce benissimo Cornachini, oltre che conoscere abbondantemente la piazza. Che idea ti sei fatto di questa squadra? E poi parleremo naturalmente anche del contesto societario che in questo momento ha chiaramente preponderanza. Io l'ho vista pochissimo, l'ho vista pochissimo, l'ho solo seguita per i giornali e per sentito dire. Io ho visto la partita di Riccione, sinceramente il Fano aveva giocato bene, nonostante che si sapeva le difficoltà, oltretutto davanti attaccanti, erano attaccanti, uno veniva da un grande infortunio, il Padovano giocando con un altro attaccante che non è il suo ruolo, Calombo che era stato adattato. Calombo che oltretutto poi ha giocato anche una buonissima partita. Però attaccanti non ci si inventa. Oltretutto avevano fatto una buona partita nella globalità. Peccato, erano andati in vantaggio, poi bellissimo gol di loro, di testa, che puoi dire poco, puoi dire bravi. La partita magari a quel punto lì è una partita molto equilibrata. Peccato poi il secondo gol che hanno preso, e lì è stata la svolta un pochino di tutta la partita. Nonostante poi sul 2-1 l'Alma abbia costruito un paio di situazioni interessanti. Sì, e oltretutto ha preso anche una traversa. Aveva preso anche una traversa, aveva fatto bene, perciò sembrava una partita molto aperta. Anche se poi considerando le due squadre, i valori, sicuramente magari Riccione ha una bellissima squadra. Io non l'avevo mai vista, però bellissima squadra, buona e qui va forte in quasi tutti i reparti. Insomma, è davanti due attaccanti molto bravi, hanno fisicità, è sicuramente magari una buonissima squadra. Però il Fano ha giocato la sua bella e buona partita. Peccato, il secondo gol che hanno preso, il 2-1, è un malinteso, è un infortunio del portiere che non stava bene, si vedeva che si stava toccando la spalla, evidente non stava bene, c'è stato un malinteso con il difensore, si è preso il 2-1 e lì purtroppo è finita la partita. Però è una squadra che puoi dire poco dal punto di vista dell'impegno, dell'aggressività, insomma, è una squadra che mi è piaciuta tantissimo, una squadra che è rimasta sempre sul pezzo, è rimasta sempre in partita. Squadra che tra l'altro sta dimostrando anche serietà in questa situazione decisamente complicata. E Cornacchini comunque riesce a tenerla sul pezzo e anche a trasmettere quelle che sono le sue convinzioni. Si è visto anche contro la Sambre d'Ettese, diamo un'occhiata alle immagini della gara di sabato, Sambre d'Ettese che praticamente ha speculato su questa rete, piuttosto precoce, conclusione da fuori area che è passata attraverso un nugolo di gambe e ha sorpreso il portiere Piersanti, chiamato nell'occasione a sostituire l'infortunato Guerrieri. Sambre che a dispetto di quella che è la sua dimensione, squadra costruita per salire di categoria, con continui aggiornamenti di mercato, nient'altro ha fatto in chiave offensiva, limitandosi a controllare la gara. La squadra Granata dal canto suo si è impegnata molto, ha attaccato anche molto, però ha pagato questa sterilità offensiva che si spiega anche con la carenza di uomini, da che è partito poi Tenko Rang, che era diventata la punta di riferimento. La situazione si è fatta ancora più disagevole. Allora, comunque, un paio di situazioni sono venute fuori, anche abbastanza sporadiche. Se vogliamo, questo colpo di testa di Mancini, deviato sopra la traversa dal portiere rosso-blu, Coco, sull'invito di Gonzales, che dal punto di vista tecnico resta sicuramente uno degli elementi più dotati. Nella ripresa vedremo quello che in origine era un cross da parte di Allegrucci che il portiere avversario è riuscito ugualmente ad alzare sopra la traversa. Non era questa una gara sulla quale puntare per cercare di muovere la classifica. Certo è, come possiamo vedere tra poco, attraverso i risultati, appunto la nuova graduatoria classifica che si è fatta estremamente difficile, anche perché dietro hanno fatto risultato quasi tutte, tranne il Sora, battuto peraltro nello scontro diretto dal Riccione. Hanno perso, sì, il Vasto Girardi e l'Amatese, Vasto Girardi che però deve recuperare una partita, sono le ultime due della classe graduatoria che colloca il Fano in piena zona play-out e le lunghezze di ritardo, come vediamo appunto dallo specchio, sono diventate quattro. Ma dicevamo, al di là di quella che è la situazione dal punto di vista tecnico, c'è un quadro societario decisamente allarmante, credo che tu non abbia avuto modo di conoscere Russo né di seguire da vicinissimo le vicende societarie, però è chiaro che la situazione si è deteriorata al punto tale che ormai siamo arrivati quasi alle ripicche. Testimonianza di questi giorni, il presidente Russo che prende nuovamente cappello per una scritta apparsa alla base della curva, in realtà una scritta di qualche settimana fa con le formazioni organizzate del Tifo Granata che proprio in queste ore hanno sottolineato il fatto. Certo, non è il migliore dei terreni sui quali imbastire anche una prospettiva in chiave futura, perché a questo punto francamente si tratta in qualche modo di cambiare atteggiamento e non sembrano esserci gli indizi, vero Roberto? Sì, sono d'accordo, perché oltretutto adesso abbiamo visto le due ultime partite, Riccione e San Benedettese, con due squadre importanti e si è giocato la sua bella e buona partita alla Pari. Perciò ecco, a dimostrazione che poi, nonostante le difficoltà, nonostante una carenza tecnica e numerica soprattutto, il Fano potrebbe farcela. Oltretutto c'è un allenatore che è bravo, Cornacchini, io su Cornacchini ho grandissima fiducia, grandissima fiducia perché a parte che ha un grandissimo stimolo e sentimento d'appartenenza, ha creato un buon gruppo, una squadra che mette la testa sotto il treno, metterebbe per cercare di far bene e venire fuori da questa situazione. È uno ben visto, perciò la tifoseria che lo stima, lo apprezza sia come allenatore che come persona, perciò è la persona giusta. Però i problemi sono tanti, sono troppi per quello che sento. È molto, molto difficile come situazione, perciò è chiaro che già anche ai giocatori è difficile giocare in una situazione di questo genere quando è tutto negativo, è difficile cercare di trovare ogni domenica delle motivazioni. Oltretutto ricordiamo che i rimborsi sono fermi a novembre. Esatto, anche questo non è semplice magari, perché? Perché c'è gente oltretutto che fa questo lavoro da professionista, perciò magari c'è gente che ha famiglia, insomma è dura, magari non c'è altro a che pensare oltre che al campo. Perciò sono delle situazioni, magari il giovane, magari adesso ci può essere l'incoscienza, la spavalderia del giovane in questa situazione, potrebbe essere positivo. Ma per quanto riguarda i giocatori meno giovani che vivono di questo lavoro, chiaramente è difficile, perché anch'io magari ci sono passato pochissime volte in situazioni di questo genere. Ecco, hai vissuto sicuramente situazioni di attrito fra una proprietà e la tifoseria, però probabilmente mai si era arrivati a questo punto, a questo muro contro muro che si è in qualche modo innescato dalla stagione scorsa e che si sta ripercuotendo pesantemente sull'attuale. Sì, esatto. Infatti io magari qualche volta, magari nel calcio succede spesso a non trovarsi in queste situazioni, o forse spesso o non tanto. Però comunque questa è una situazione assolutamente anomala, insomma qua si fanno le ripicche. Una situazione come questa sinceramente non l'ho mai vissuta, perché adesso come adesso, insomma, è difficile sia da un punto di vista morale che questo, che come per dire vi faccio i dispetti e dovete sparire dalla terra dalla geografia calcistica fanese ed è un grande peccato, perché oltretutto magari siamo orgogliosi come fanesi magari di essere una delle società, la società che non è mai fallita nei suoi anni, nei tanti anni magari di attività. Perciò è un grandissimo peccato. D'altro la singolarità è anche questa, si assiste ormai sistematicamente e periodicamente a fallimenti di società di calcio, ma quasi sempre la cosa avviene in riferimento ad un proprietario che non ha più i mezzi per mandare avanti la baracca o che in qualche modo è stato scoperto nel suo blef. Qui nel caso di Russo parliamo comunque di un imprenditore assolutamente all'altezza della situazione come ha dimostrato finanziariamente in queste stagioni. Sì, sì, anche questo è vero perché appunto anomalo anche sotto questo aspetto perché Russo dice io potrei, però non voglio, però non voglio. Perciò basterebbe un minimo, un minimo indispensabile perché ho paura veramente che non ci sia anche materialmente il minimo indispensabile, cioè il pullman per la trasferta, il pranzo per il prepartita, i palloni per giocare, per dirti magari io arrivo all'estremo perciò ecco, magari nel calcio ci vogliono comunque dei presupposti minimi perché la cosa magari ecco possa avere la sembianza magari di una cosa normale e qua di normale non c'è assolutamente niente. La dimostrazione è anche la partita contro il Fossombrone, no, c'era una contestazione e vabbè la contestazione magari si cerca in qualche modo poi di aggiustarla e cerchi in qualche modo di trovare una soluzione, invece no, insomma, si è trovata... Anche in quel caso giornata Granata con prezzi raddoppiati che operazione che ha fatto sfumare anche un incasso sostanzioso che avrebbe comunque fatto bene le casse del Fano. Ovviamente l'auspicio è che prevalga il buonsenso ma considerato il quadro è un auspicio che francamente non sembra molto attinente a quella che è la realtà. Ma parliamo di cose più gratificanti, delle due stagioni in Granata come responsabile dell'area tecnica, una in particolare. Abbiamo delle immagini di un Alma Juventus Fano Vispesaro, un derby ricco di emozioni, ricco anche di gol di elevatissima fattura, quelli di Sivilla. Cosa ricordi in particolare di quella stagione che credo sia stata la più significativa nell'arco delle tue da dirigente del Club Granata? Sì, quelle sono cose indimenticabili. Una cosa indimenticabile perché io sono rimasto tre anni in quel periodo, magari tre anni come direttore sportivo e noi magari contro la Vispesaro insomma abbiamo vinto magari lo si sa che è sempre una partita particolare, sono sempre tre punti come gli altri però è chiaro che c'è sempre un fascino particolare il derby ed io magari ricordo di averli vinti tutti e sei i derby contro la Vispesaro perciò questa partita vedere questa curva stracolva è emozionante è emozionante perciò ricordo bellissimo stadio pieno i cori qualsiasi parte qualsiasi angolo qualsiasi bar della città insomma si parlava della squadra e perciò insomma guarda qua la prorezza di Sivilla ti ricordi bene bellissimo emozionante è una cosa bellissima bellissima stadio pieno sempre tifosi poi oltretutto bravissimi perché hanno sempre avuto un grandissimo rapporto magari con la squadra con la dirigenza posso dire solo che addirittura sono stati molto bravi a volte magari anch'io magari alcune circostanze magari potevo essere abbattuto magari erano loro spesse volentieri magari a darmi conforto perciò insomma io posso dire assolutamente poco perciò c'erano tutte le componenti c'era una società c'era il pubblico c'era la stampa e sono queste tre componenti importanti perché le cose vadano in un certo modo un clima decisamente diverso c'è anche un'immagine che ti ritrae con alcuni dei protagonisti di quella fantastica stagione vediamo tra gli altri Ginestra Torta Borrelli lo stesso allenatore Alessandrini questo il Canestrari dirigente Roberto Canestrari ha un vissuto da calciatore molto importante partito proprio in maglia granata dopodiché e vediamo anche qua delle immagini d'epoca sfogliando questo album dei ricordi che nel tuo caso è particolarmente ricco dicevamo prelevato dal Bologna che ti inserisce in una formazione primavera dalla quale poi verranno generati i giocatori che faranno un pezzo di storia del calcio italiano ecco ti ritratto in particolare credo con Pecci Colomba piuttosto che lo stesso Giovanni Meigrop insomma c'è sì era questo Bologna Bologna e Dalfano magari andai al Bologna subito un salto incredibile perché poi andai in ritiro con la prima squadra con la squadra di allora di Bulgarelli Perani Roversi Cresci Savoldi Perani insomma ecco giocatori incredibili e quella è stata una bellissima esperienza è stata una bellissima esperienza rapporti che tra l'altro durano ancora in particolare con Eraldo Pecci di cui sei amicissimo dal Bologna al Modena per fare una prima esperienza importante mi pare e poi e poi l'avventura centrale della tua carriera di calciatore quella di Cagliari vediamo qui in bianco e nero ma si possono comunque cogliere le dimensioni della prudezza gol al volo da fuori aria mi pare sia un Cagliari Genoa è possibile? sì sì Cagliari Genoa uno dei tuoi tre gol in quella stagione che culminò con la promozione in serie A che fu celebrata anche in questo caso chiediamo conforto alle immagini al termine appunto di quel campionato in un Cagliari Sampdoria stagione che venne caratterizzata in particolare appunto da questa tua performance anche a livello realizzativo oltre che ovviamente da difensore ma che fu favorita inizialmente dal fatto che a volerti a Cagliari fu Gigi Riva di cui in questi giorni stiamo continuando a celebrare il ricordo sì io giocavo nel Modena giocavo nel Modena avevo fatto il secondo anno che ero a Modena in serie B avevo giocato contro il Cagliari marcando Pietro Paolo Virdis e l'anno dopo poi lui mi volle mi volle a Cagliari però bravi anche complimenti per le immagini perché io sinceramente quel gollino me lo ricordavo penso di non averlo nemmeno mai visto anche se non hai segnato moltissimi quindi dovresti tenerli a mente sì infatti infatti a parte lì poi magari avevo fatto 33 partite avevo fatto bene perché magari anno 78 79 appunto Fugigi che mi volle feci però poi non tradì la sua fiducia perché poi feci 33 partite 33 partite vincemmo il campionato di serie B tre gol come difensore perciò tre gol quasi tutti determinanti perciò dai è una bellissima esperienza si giocava con 60.000 persone ogni domenica insomma un entusiasmo incredibile e adesso anche tutt'oggi giudicata una delle squadre più interessanti tant'è vero che ultimamente mi avevano invitato perché era uscito un libro che su questa squadra perché è ritenuta una delle più interessanti le squadre più interessanti dopo quella dello Scudetto anni 70 di Gigi Riva perciò insomma bella bella esperienza bella soddisfazione ricordi ancora vivissime ancora immagini canestrari in maglia Cagliari con la quale poi hai fatto il tuo esordio in Serie A l'anno successivo abbiamo qua qualche immagine a riguardo in particolare di un Cagliari Juventus in cui la squadra bianconera passò in vantaggio con una prudezza di Bettega se non ricordiamo male ma il Cagliari riuscì a ribaltare quel risultato imponendosi per 2-1 e fu credo una grandissima soddisfazione battere la squadra bianconera avventura di canestrari che proseguì a Bari andò un po' meno bene ma un'altra piazza comunque di grande prestigio e con un grande pubblico vediamo anche a questo riguardo un'immagine di canestrari con la squadra del Bari che esperienza fu quella? Ma quella fu comunque un'esperienza è stata un'esperienza non fu magari totalmente positiva perché io stavo giocando a Cagliari avevo giocato la domenica prima a Torino avevo marcato appunto Graziani aveva vinto 2-1 a Torino e l'ultimo giorno di mercato l'ultimo giorno di mercato mi telefonò Gigi Riva io ero a cena mi ricordo da Virdis ero a cena da Virdis mi fa guarda Roberto che ti vuole il Bari a tutti i costi vogliono andare in Serie A con l'allora presidente Antonio Matarrese Antonio Matarrese mi fa guarda che ci danno dei soldi dei gran soldi senti te vedi te però ecco questi ti vogliono il tempo di pensare era molto poco molto poco e con dispiacere poi ho fatto un colloquio con Matarrese e lì poi non essendoci allora i procuratori come oggi e anche la possibilità di dire no era estesa fino ad un certo punto fino ad un certo punto sì perché mi ero reso conto che era un'operazione che il Cagliari ci contava su quell'operazione perché comunque allora eri proprietà della società eri proprietà della società perciò loro avevano preso dei bei soldi sinceramente allora perché io avevo fatto veramente bene l'anno l'anno prima della serie B ho fatto benissimo poi avevo iniziato a rigiocare in serie A perciò parlai con Matarrese e mi accontentò ho buttato lì una cifra e questa qua e mi ha detto sì va bene e da lì insomma sono andato avanti sono andato avanti e lì poi con allenatore Renna Renna allenatore ed era una società con delle ambizioni incredibili aveva una grande squadra oltretutto c'era Iorio e Serena i due attaccanti per dirti insomma che livello non riuscimmo a vincere il campionato non riuscimmo a vincere il campionato e l'anno dopo arrivò Catuzzi e Catuzzi si portò quasi tutti i suoi ragazzi della primavera quando poi ne venne fuori 4, 5, 6 o 7 giocatori a livello poi di serie A e qualcuno addirittura anche in squadre blasonate perciò lì fu un'esperienza breve che non sono riuscito magari a valorizzarmi e dare quello che avrei voluto perché troppo poco sono arrivato a novembre e a giugno non avendo vinto il campionato hanno fatto rivoluzione capito ed io sono stato estromesso da questa rivoluzione perché hanno fatto una politica dei giovani e con questa immagine che abbiamo adocchiato che ti ritrae insieme a Rajan Ainggolan credo in occasione di una rimpatriata a Cagliari sì quello è stata la partita di chiusura del Sant'Elia perciò tutti quelli che avevano giocato a livello di serie A nel Sant'Elia si sono ritrovati una bellissima cosa si sono ritrovati 30, 40, 50 giocatori tutti gli ex una cosa anche allenatori bellissima una serata bellissima e questa era Cagliari Sant'Elia ultima partita del Sant'Elia Cagliari e con questo Amarcord congediamo Roberto Canestrari ringraziamo per essere stato nostro ospite noi invece vi aspettiamo fra qualche istante la pallavolo ora è il pronto ritorno al successo nel campionato di A3 maschile della Smart System che si conferma imbattibile in casa liquidato anche il Sorrento al termine di una gara come vediamo dalle immagini dall'andamento comunque contraddittorio Smart System in controllo nel primo set poi la luce si è spenta Sorrento che pure in trasferta aveva lamentato nel corso della stagione gravissimi problemi ha preso in mano la situazione si è giudicata il secondo set nel terzo ha allungato Smart System che si è fatta trovare però sul pezzo nel momento in cui c'è stato da recuperare grazie a questo Ace di Merlo dopo il suo attacco vincente si è portato a casa quel terzo parziale che si è rivelato decisivo perché poi nel quarto Sorrento ha un po' mollato e la Smart System è andata via abbastanza agevolmente ora sono da risolvere i problemi in trasferta la Smart System è tornata ad accusarne anche recentemente saranno due le partite fuori casa consecutive la prima domenica Casarano contro una formazione in evidente difficoltà la successiva Lago Negro contro la seconda forza del campionato come possiamo desumere dal quadro dei risultati dell'ultimo turno che ha visto proprio Lago Negro avere la meglio su Marcianise mentre Casarano è inciampata a Napoli in testa alla classifica fa rumore fino ad un certo punto la sconfitta di Macerata che conserva comunque il primato in classifica ad opera di un Palmi che si è rilanciato dopo un paio di passi falsi San Giustino a sua volta si impone da autorità su Bari che aveva sicuramente avuto una ripresa eccellente nelle ultime settimane classifica che vede confermarsi al vertice appunto Macerata che mantiene un margine del tutto rassicurante sul Lago Negro Smart System terza San Giustino quarta un po' attarrata Palmi ma che ha già osservato un turno di riposo nel frattempo si attendono indicazioni da parte della Lega circa la Final Four di Coppa Italia come abbiamo ascoltato dal presidente Cenerilli ospite la settimana scorsa di Sportissimo Fano si è candidata ad ospitarla si giocherà il 2 e 3 marzo prossimi la concorrenza è quella costituita da Palmi ancora pallavolo per raccontare una delle tante belle storie che lo sport del territorio propone è quella dell'Adriatica che si prepara a celebrare i suoi 70 anni ripercorreremo le vicende del passato ma con un occhio anche all'attualità con il presidente dell'Adriatica Massimo Gabbianelli buonasera e benvenuto buonasera grazie e con Martina Betti allenatrice dell'Adriatica Gabbianelli naturalmente questo racconto non può non partire da un ricorno quello di Don Gabriele Belacchi che l'Adriatica l'ha fondata ormai quasi 70 anni fa e che è stata l'anima di questa avventura iniziata con il calcio e poi evoluta principalmente quasi unicamente direi con la pallavolo abbiamo anche delle immagini di Don Gabriele il Donga come amate ricordarlo anche in questi giorni in cui è stato appunto celebrato in qualche modo ricordato il quarto anniversario della scomparsa esatto Don Gabriele pur non essendoci più è ancora l'anima della società perché tutti noi cerchiamo di tirare avanti la società nei suoi insegnamenti tuttora la sede è nella parrocchia la società fa sempre riferimento a quei locali a quei luoghi e anche i sacerdoti che si sono succeduti dopo Don Gabriele hanno sempre ritenuto opportuno sostenere ed essere vicini all'attività effettivamente nel 2025 saranno 70 anni dalla nascita della società i primi 20 solo calcio poi si è affiancata alla pallavolo fino a diventare predominante come dicevi e quindi noi prepareremo per ricordare l'attività della società ma anche per ricordare Don Gabriele una serie di eventi per il prossimo anno ci stiamo già lavorando ancora è molto prematuro ma la volontà di ricordare l'attività svolta far rincontrare le persone e ricordare soprattutto Don Gabriele cede molto forte quella dell'Adriati è una storia particolare anche perché si tratta di una società sportiva nata contestualmente alla nascita di una parrocchia quella della Gran Madre di Dio all'interno della creazione di un nuovo quartiere quello di San Lazzaro esatto tra gli insegnamenti di Don Gabriele c'era quello che voleva avvicinare la gente però farla star bene facendo di fare attività con la parrocchia è nata un'attività di teatro soprattutto la società sportiva l'animo di Don Gabriele poi era anche un animo competitivo quindi lui ci teneva che si facesse sport ma si provasse anche a vincere tant'è che ancora le sale della parrocchia sono piene di vecchi trofei che ricordano la storia tramite tanti tornei svolte tramite tante attività fatte che hanno visto spesso primeggiare le ragazze prima nel calcio magari Mario Barbaresi è iniziato lì a tirare i primi calci e se uno frequenta i social vede che lui lo ricorda sempre con grande ammirazione con grande affetto Don Gabriele poi ci sono state anche nella pallavolo delle atlete che hanno raggiunto dei buoni livelli ricordiamo la compianta Anna Zattoni alla quale ha intitolato credo doverosamente la palestra l'impianto di Borgo Metano ma anche adesso ci sono delle ragazze come Ilaria Battistoni che giocano in Serie A ed è l'unica atleta femminile che negli ultimi tempi ha vestito la maglia della nazionale abbiamo poi Vittoria Tonelli ed anche Alessio Tallone che gioca in A2 quindi alla vicinanza al territorio al quartiere ma non solo si è sempre cercato di unire un livello di qualità che permettesse ai ragazzi di crescere sia umanamente ma anche nello sport per fare in modo che chi avesse delle possibilità potesse tirarle fuori e avere anche le soddisfazioni sportive che uno va a cercare quando inizia l'attività e poi magari non le coglie nella propria città ma ha la possibilità di spiccare il volo insomma Hai citato alcune espressioni di vertice dell'Adriatica di questi decenni però il focus resta l'attività di base che è più che mai rilevante in questo contesto sociale dare delle opportunità ai bambini alle bambine di fare sport in una situazione che li metta nelle migliori condizioni possibili Allora noi posso dare un po' di numeri poi magari Martina sarà più precisa per certe cose la nostra società si compone di circa 250-260 atleti a cui si aggiungono gli allenatori dirigenti i segnapunti quindi è un movimento di 300 persone la gran parte di questi indicativamente un 70-80% è minorenne sotto i 18 anni quindi l'attività va fatta conciliare con quelli che sono gli impegni scolastici per cui c'è un problema di gestione delle palestre di trovare gli orari adeguati l'attività si svolge principalmente alla palestra Nazattoni che è la nostra casa ma usiamo anche altri impianti alla palestra del liceo Polloni alla nuova palestra di Cucurano ci chiamo alcune gare al palasport è un movimento che vede un continuo via vai davanti alle palestre tant'è che tutti si allenano due o tre volte alla settimana fino a tardasera e quindi c'è un movimento continuo che continua ormai da tanti anni e negli ultimi tempi abbiamo avuto anche degli incrementi che ci rallegrano per la bontà del lavoro fatto cerchiamo di avere le porte aperte per tutti anche per chi magari ha difficoltà a raggiungere la palestra recentemente ci siamo dotati di un pulmino nuovo per aiutare chi ha necessità oltre per fare le trasferte delle partite e collaboriamo anche con le scuole per fare queste attività di vicinanza e con la parrocchia che rimane un po' sempre il nostro punto di riferimento anche se non c'è solo gente della parrocchia Gran Madre di Dio che cercaventa la società però per noi siamo nati con quel DNA la portiamo avanti insomma diciamo che un tempo in effetti la parrocchia era punto di riferimento per gli abitanti di quel quartiere ovviamente nella modernità questo non è più così esclusivo Martina abbiamo detto dell'attività di base ti chiedo quali le motivazioni ti chiedo anche quali le difficoltà perché ci si deve rapportare a generazioni che sono molto evolute dal punto di vista tecnologico e un argomento che magari abbiamo toccato di rado anche con genitori che magari in qualche caso sono un po' invadenti io quello che dico in primis bisogna allenare il genitore perché allenare il genitore è un po' difficile il bambino già è più malleabile quindi se gli dici di fare una cosa la fa il genitore se invece vai fuori dal suo schema è un po' è un po' difficile però comunque noi vediamo che i nostri bambini vengono volentieri io mi occupo del mini volley quindi della fascia delle elementari abbiamo quest'anno abbiamo avuto il boom di quasi 100 iscritti per cui abbiamo chiesto aiuto anche a altre palestre scolastiche perché i nostri gruppi sono da 20-25 al massimo bambini perché sopra voi si lavora anche male gruppi troppo numerosi difficile e quindi abbiamo sempre due allenatori a gruppo e niente abbiamo tante soddisfazioni i bambini si divertono escono di casa almeno no si allontanano un po' dalla quotidianità pesante dello studio dei doveri e quindi vengono sempre molto volentieri io coi bambini io li adoro i bambini se devi fare il mini volley devi avere la passione per la pallavolo anche per i bambini i problemi poi ci sono ci sono sempre ovunque con i genitori c'è anche la necessità di adeguarsi appunto nel rapporto con queste generazioni che sono appunto in continua evoluzione da un anno all'altro le cose possono cambiare anche sostanzialmente la cosa difficile da far capire a questi bambini questi bambini sono abituati ad avere tutto e subito anche i risultati qualsiasi cosa e la cosa difficile è fargli capire che è con l'impegno che tu e allenandoti che tu puoi avere i risultati perché arrivano in palestra questo è difficile perché i bambini adesso sono abituati ad avere tutto subito abbiamo accennato agli impianti appunto il riferimento resta la palestra di Borgo Metauro intitolata Nanna Zatoni che mostra il segno degli anni perché è stata costruita credo alla fine degli anni 60 se non vado errato anni 50 addirittura anni 50 sono stati effettuati gli interventi adeguamento alcuni anche recenti come ve la cavate? Allora la palestra diciamo è la nostra casa avendo quasi 80 anni inizia a mostrare un po' di segni del tempo ultimamente sono stati fatti dei lavori di aggiornamento sia di efficientamento energetico non ancora completati sia con nuove vetrate e una nuova tinteggiatura per rendere più salubre e più visibile l'ambiente ovviamente si tratta di una palestra costruita tanti anni fa quindi non ha quelli che possiamo definire un po' i comfort delle palestre attuali il pubblico si deve accomodare su delle panche su delle sedie non ci sono le tribune a ridosso del campo esatto proprio come accadeva negli anni 70 non è cambiato nulla come quando ci giocava la Serie A però cerchiamo di mantenerla efficiente però adesso come adesso diventa un po' un limite soprattutto quello che ci pesa è non poter accogliere gli spettatori che sono principalmente i genitori dei nostri ragazzi e della squadra ospite in maniera adeguata spesso debbono assistere la partita in piedi ed è per questo che ultimamente abbiamo iniziato a utilizzare degli spazi in altre palestre tra cui quella di Cucurano della scuola elementare che è una palestra nuova dove ovviamente si notano gli aggiornamenti che ci sono stati nel tempo dove anche recentemente abbiamo fatto ad esempio sabato un torneo di minivolli con 60 e 70 ragazzi e dentro quella palestra ci entrano nella nostra palestra all'Anna Zattoni non c'è spazio però è un luogo in cui siamo molto affezionati qualità della società qualità degli impianti ma anche qualità degli istruttori da questo punto di vista c'è un'attività anche formativa che svolgete assolutamente è un'attività formativa annuale perché poi ci sono anche i vari aggiornamenti e in più comunque noi siamo un team che si confronta di continuo quindi alla prima occasione ci mettiamo a tavolino decidiamo vediamo quali sono i problemi come si possono risolvere quindi siamo sempre in aggiornamento perché comunque le generazioni cambiano i bambini cambiano di volta in volta e quindi anche l'approccio cambia quindi è continuo l'aggiornamento è continuo come nella vita non si finisce mai di imparare i rapporti con le altre società ovviamente la pallavolo è uno sport centrale qui sul territorio molte le società che fanno pallavolo come convive noi cerchiamo di convivere bene con tutti abbiamo dei rapporti preferenziali con la società di Lucrezia quest'anno abbiamo fatto l'attività maschile assieme noi abbiamo l'attività maschile come società Borgovolle si tratta di una società strettamente legata alla nostra che svolge attività nel maschile fa una serie C regionale poi assieme all'APA abbiamo fatto una collaborazione per permettere a tutti i ragazzi di giocare i maschi non sono numerosissimi e quindi in questo modo riusciamo a dare a tutti i ragazzi possibilità di giocare e anche qui ci sono da superare dei problemi logistici perché a volte si allenano a Fano a volte si allenano a Lucrezia quindi occorre organizzare ad esempio i trasporti le partite non sempre sono a Fano a volte anche quelle in casa le giochiamo a Lucrezia per cui si tratta di un'attività che richiede un certo impegno a livello organizzativo nel settore maschile fino all'anno scorso c'era uno stretto legame con APAV e Virtus sotto il nome di Piuvolle alla fine della scorsa stagione consensualmente abbiamo deciso di chiudere questa collaborazione e continuiamo a fare qualcosa con APAV e anche collaboriamo con Megabox Megabox è un po' la società di riferimento della nostra provincia perché è la Serie A ha la volontà di iniziare a fare un po' di strada nel settore giovanile noi quest'anno diciamo così abbiamo messo in comune con loro alcuni atleti per permettergli di fare una Serie C giovane e abbiamo messo anche a disposizione un intero gruppo affinché potessero disputare il campionato di Under 14 visto che la Serie A ha degli obblighi di regolamento di disputare dei campionati giovanili noi pensiamo che comunque la collaborazione sia importante perché dalla collaborazione si impara e soprattutto si offrono più opportunità ai ragazzi e alle ragazze di giocare cioè alla fine io credo che per me come presidente la sconfitta non è perdere una partita 3 a 0 perdere bene o perdere male la sconfitta più grande è quando uno non riesce a fare tutto quello che occorre per permettere ai ragazzi di giocare cioè noi siamo un po' a disposizione dei ragazzi che vengono in palestra e dobbiamo dargli la possibilità di giocare nel miglior modo possibile spesso le collaborazioni vanno incontro a questa finalità perché poi se si vuole fare una squadra competitiva se si ha un gruppo con numeri ristretti mettersi insieme ad altri permette di risolvere questi problemi la pallavola è uno sport di squadra ad esempio se non si raggiunge un numero minimo non si gioca e allora noi cerchiamo sempre di cogliere queste occasioni focus naturalmente sul vivaio però c'è anche una prima squadra che sta disputando il campionato di Serie C come stanno andando le cose? stanno andando bene perché la nostra Serie C è una squadra abbastanza giovane per quello che è il livello della Serie C ha avuto qualche problema in partenza anche perché era stata ringiovanita in alcuni ruoli ma sta marciando bene ed è nella prima fase quarta in classifica che dovrebbe accedere ai playoff quindi dovremmo rientrare tra le prime squadre della regione ovviamente per noi è un grosso risultato perché è gran parte frutto del lavoro del vivaio con atlete che hanno fatto tutto il percorso dal minivolle seguiti dalla Martina e dalle sue colleghe allenatrici fino a fare tutta un po' la trafila della giovanile e arrivare in prima squadra un po' è la nostra caratteristica la vostra filosofia cerchiamo sempre di portare avanti il discorso del vivaio e abbiamo anche dietro un'altra squadra in prima divisione di ragazzi un po' più adulti che non hanno perso una partita e potrebbero arrivare in Serie D quindi avremo addirittura una C e una D che per noi è un lusso è un motivo di grande orgoglio insomma le soddisfazioni non mancano grazie a Martina Abetti per essere stata nostra ospite così come a Massimo Gabbianelli presidente dell'Adriati che ci diamo appuntamento naturalmente per le celebrazioni di questo settentese sicuramente faremo le cose per ricordare l'attività della società e soprattutto Don Gabriele noi ci rivediamo fra qualche attimo e anche in questa puntata di Sportissimo ci occupiamo di calcio a 5 in particolare del campionato di A2 di cui è protagonista in questa stagione la Bulldog TNT Lucrezia di cui torniamo ad ospitare l'allenatore Elia Renzoni buonasera buonasera e Michele Sabatinelli giocatore della squadra giallo-blu che tra l'altro è stato assoluto protagonista di quella che è stata una vittoria pesantissima che avete ottenuto nell'ultimo turno e che credo nei vostri auspici possa rappresentare un'inversione di rotte così Renzoni sì era una partita fondamentale perché senza questa vittoria non avremmo avuto l'opportunità di riagganciarci a quella che è la zona salvezza adesso abbiamo due squadre a un punto con una partita in più di noi la sfida era quella giocata in casa contro un avversario comunque di valore questa Roma history così abbreviamo la dicitura completa che avete battuto anche con una certa disinvoltura credo sì loro arrivavano con un paio di defezioni importanti noi le abbiamo avuto tante volte altre in alcune occasioni non siamo stati neanche non abbiamo demeritato insomma nonostante le defezioni o le problematiche che abbiamo avuto in stagione potevamo sicuramente chiudere con un successo con un pareggio delle partite che poi sono girate in modo strano in questo caso è capitato a noi di avere un piccolo vantaggio loro avevano insomma un giocatore giubilei che ha segnato dieci gol nella loro fila assente e abbiamo sfruttato al meglio anche il fattore campo una Bulldog che è stata ripescata in A2 dopo aver partecipato l'anno scorso ai playoff al termine di una stagione comunque molto convincente certo credo il fatto di essere appesi a questa possibilità fino ad un certo punto dell'estate non vi ha agevolato nel senso che chiaramente non avete mai avuto fino a che il ripescaggio non è stato ufficializzato la certezza di disputare questo campionato e di attrezzarvi di conseguenza sì sicuramente siamo partiti leggermente in ritardo con la formulazione della squadra e della Rosa però all'ora del vero non è proprio questa la motivazione per cui la classifica in questo momento ci vede attardati nel senso che si fanno delle scelte e la squadra come ossatura è rimasta per la gran parte quella della scorsa stagione che ci ha permesso di ottenere tanti successi di arrivare a giocarci due finali per la promozione diretta senza passare dal ripescaggio dopodiché è normale abbiamo rinunciato a un giocatore come Paludo perché lo scorso anno è stato vittima di vari infortuni e quindi è un giocatore che per noi era assolutamente importante e poi sono arrivati altri giocatori abbiamo dovuto correggere in corsa quello che è stato il mercato e adesso però quello che è il mio parere è che siamo sulla strada giusta ecco alcuni innesti sono stati fatti molto di recente credo abbiano dato subito un certo timbro alla squadra sì è arrivato un giocatore come Felipe Manfroy di grande esperienza a Pesaro se lo ricordano bene perché è un giocatore che ha fatto la Serie A a lungo ed è un giocatore che non solo da un profilo tecnico ma anche da un profilo mentale da una grande mano a tutti i compagni ogni allenamento e ogni partita bene gli ultimi arrivati ma anche quelli che sono rimasti la loro parte la stanno facendo come in particolare Sabatinelli che ha firmato una doppietta abbiamo visto in particolare il secondo gol su punizione un'esecuzione sicuramente di buonissima fattura sei stato forse agevolato dal piazzamento dell'uomo in barriera sì il portiere mi aveva disposto benissimo una barriera ho visto lo spiraglio e ho tirato lì dopo per il portiere è difficile arrivare sul pallo non coperto sei nuovo a queste prodezze oppure fanno parte del bagaglio no dai qualche volta ci prendo già da quando giocavo a calcio ero bravo a tirare le punizioni e a calcio a 5 mi sto ripetendo come stai vivendo questa stagione è stato così traumatico il salto dalla Serie B no non è stato traumatico però è stata una prima parte di stagione che non ci vede felici se andiamo a vedere la classifica abbiamo 6 punti e non possiamo essere contenti beh adesso 9 adesso 9 sì scusami ma sappiamo che abbiamo lottato su ogni palla e ogni partita anche contro avversari con un roster sicuramente più grande del nostro abbiamo avuto solamente un passaggio a vuoto a Grosseto e per il resto abbiamo perso tutte le partite di misura basta pensare quando siamo andati a Imola contro una carazzata come la Dozzese che spende due o tre volte il budget nostro abbiamo perso a 50 secondi dalla fine quindi quindi la squadra c'è adesso la società con questi due innesti importanti ci ha dato la possibilità di rimanere in categoria quali le differenze più sensibili fra le due categorie dal punto di vista tecnico magari anche fisico tecnico fisico e mentale la tenuta proprio della partita in questa categoria ogni volta che commetti un errore vieni punito e di conseguenza noi abbiamo tanti giovani tanti ragazzi che sono proprio del posto comunque Lucrezia che si confronta contro Roma contro Prato contro delle realtà di città quando noi siamo un paese e con tanti ragazzi bravi che però il salto di categoria è normale che un po' lo soffrono ed è per questo che gli innesti anche di due giocatori come Monfroy e Gabriele Piersimoni che ha fatto la categoria per tanti anni è importante soprattutto da un punto di vista mentale della tranquillità con cui si affrontano certi momenti durante la partita vi ritrovate come versari alcune delle squadre che avevate già affrontato l'anno scorso in Serie B sì Michele diceva contro una corazzata contro la Dozzese siamo riusciti fino a 50 secondi dalla fine a tenere la partita e a Terni mi permetto di dire uguale la Ternana con noi lo scorso anno ha perso tre volte quest'anno si trova loro primi e noi ultimi e loro hanno ha fatto un innesto di qualità adesso due perché è arrivato un attaccante molto forte ma la differenza delle volte è molto piccola noi siamo andati a Terni quest'anno dove contro la capolista da ultimi in classifica abbiamo giocato pallone su pallone alla pari però loro hanno sottoporta una lucidità e sono spietati ogni occasione la finalizzano in rete e quindi noi in questo momento ci troviamo a essere il peggiore attacco nonostante i sei gol segnati sabato e quindi stiamo cercando di migliorare sotto questo aspetto abbiamo fatto riferimento alle operazioni di mercato che sono state copiute recentemente questo significa che c'è una società attenta sensibile alle esigenze che maturano sul campo la società non vuole retrocedere la società se voleva retrocedere o comunque voleva fare un campionato come va va non avrebbe fatto il ripescaggio il ripescaggio è stato fatto perché hanno visto un progetto portato avanti dallo scorso anno di un certo tipo e vogliono a tutti i costi aiutare la squadra lo staff tecnico a raggiungere l'obiettivo che è la salvezza anche sul piano della struttura societaria tra l'altro ci sono state novità in questi mesi sì sono state delle novità importanti un dirigente come Alberto Pieri che è arrivato da Little Service Pesaro per portare la sua esperienza e altre novità insomma proprio strutturali che hanno portato più professionalità a quello che è la società Bulldog Lucrezia vi misurate Michele contro squadre appunto molto ben congegnate che hanno alle spalle strutture importanti in impianti importanti questo sicuramente anche di stimolo sì molto basta pensare sabato scorso siamo andati a giocare a Bologna un palazzetto bellissimo San Lazzaro di Savena affiliata proprio col Bologna Calcio quindi è molto stimolante affrontare queste squadre e vedere tutta la struttura che c'è dietro una salvezza che passa come sempre dagli scontri diretti principalmente esatto e adesso il calendario me ne propone due in sequenza contro squadre sulle quali appunto dovete fare la corsa perché possiamo vedere anche i risultati della classifica che sono seguite appunto che sono maturate nell'ultimo turno il vostro successo su Roma per 6 a 2 le vostre concorrenti dirette nell'occasione hanno segnato il passo sia Prato che Grosseto in particolare una classifica alla quale facevamo appunto riferimento che rivede di nuovo tallonare proprio Prato e Grosseto che sono appunto le prossime due avversarie passa tutto quasi tutto da lì oppure il campionato come si dice spesso è ancora lungo allora il campionato è ancora lungo però ovviamente questi scontri diretti hanno un valore in questa posizione di classifica io dico sempre di 6 punti perché hanno un peso enorme perché se noi prendiamo l'intera posta loro prendono 0 punti eh sì perché in questi casi si fanno i punti ma si tolgono anche agli altri esatto è come fare questa magia è normale che questi scontri diretti è molto importante non perdere a Prato è normale che noi vogliamo vincere cercheremo di vincere tutte le partite però a Prato è importante fare un risultato utile e quello che ho detto ai ragazzi è proprio che ora ci siamo strutturalmente come esperienza come componente fisica e mentale e quando non si può vincere non si deve assolutamente perdere cioè dobbiamo cercare di affrontare ogni gara con questa mentalità Prato è una sfida difficile Grosseto ce l'abbiamo in casa ma cercheremo di portare a casa l'intera posta in entrambe le partite la complicazione dicevi ulteriore potrebbe essere rappresentata che la sfida con Prato possa slittare a mercoledì prossimo a quattro giorni dalla partita con il Grosseto non è la migliore delle situazioni lì la società sta lavorando nel migliore dei modi perché purtroppo la partita con Prato verrà spostata ad un turno infrasettimanale poiché il Prato ha un giocatore tra le loro fila che è convocato in nazionale e il regolamento dà la possibilità con un comunicato uscita poco settimane fa a queste società di spostare la gara perché c'è l'impegno della nazionale di alcuni loro tesserati è ovvio che per noi per una società che ha un mix di giocatori professionistici che lo fanno per professione ma anche dei giocatori che lavorano perché ricordiamo che il futsal non è uno sport professionistico quindi è un mix che giocare di mercoledì non è facile organizzarsi però ovviamente adesso la società sta lavorando per cercare un orario consumo della gara Grosseto e Prato sono ad un tiro di schioppo a questo punto non troppo lontane nemmeno Roma e Fabrica di Roma tra l'altro Roma l'avete appena battuta hanno una partita in più e questo conta esattamente sono queste Sabatinelli le avversarie a di là della classifica sulle quali fate i vostri ragionamenti sì la corsa la facciamo su Roma Fabrica di Roma Prato e Grosseto questa vittoria ci ha dato tantissimo morale adesso abbiamo una settimana per preparare al meglio la partita contro Prato e poi Grosseto sappiamo che non possiamo sbagliare specialmente in casa e fuori andiamo a cercare di prendere punti dove possiamo e come ha detto prima il mister se non possiamo vincere non dobbiamo assolutamente perdere fattore campo nel vostro caso si può far pesare perché giocate in un impianto comunque particolarmente angusto mentre altre formazioni come diciamo Bologna sono abituate a spazi insomma un pochino più ampi sì diciamo che le due squadre guardando adesso proprio la classifica che hanno il vantaggio campo da questo punto di vista siamo la Bulldog e il Fabrica di Roma che ha una struttura molto calda molto particolare e cercheremo assolutamente di fare valere il fattore campo però devo dire che i ragazzi questo va detto proprio nel percorso riescono a fare delle ottime partite anche in campi molto diversi dal nostro fuori casa come ha detto Michele è vero che le tre vittorie le abbiamo tenute in casa ma voglio ricordare che il 70% della struttura di questa squadra è lo stesso dello scorso anno e lo scorso anno la Bulldog ha perso tre partite in tutto il campionato andando a vincere anche in campi 20 per 40 o a fare ottime prestazioni anche in campi molto diversi da quello di Lucrezia quindi confido che anche fuori casa possiamo fare bene ricordiamo tra l'altro che retrocede direttamente soltanto l'ultima classificata la penultima va ai play out ai play out con altri giro voglio dire si può fare si può fare si deve fare grazie a Elia Renzoni allenatore della Bulldog TNT Lucrezia grazie a Michele Sabatinelli grazie a tutti voi ancora una volta per averci seguito vi aspettiamo la settimana prossima a partite a partite